Ciao ragazzi, ecco voi un nuovo video. Quest'anno sono in super ritardo col video sul Cosmoprof, ma lo sto registrando. Il Cosmoprof è una fiera che si tiene a Bologna esattamente fine settimana e ci sono un sacco di cose. I settori che prendono sono il settore dell'estetica, il settore del beauty, quindi dei trucchi, il settore dell'arrendamento per questi settori e soprattutto quello delle unghie. Vi rimando agli altri video dove ho spiegato bene il Cosmoprof e quant'altro che ve li metto qua sotto nel box informazione e parliamo subito di noi. Nel senso che io ci sarò alla fiera, ci sono venerdì, sabato e domenica. Venerdì giro perché ho un sacco di appuntamenti e un sacco di cose di lavoro da fare, però ovviamente se ci incontriamo mi fa piacere. Tra altre cose venerdì allo stand Estrosa lavora Martina, io amo le unghie curate dalle tre e mezza, quindi può darsi che se passate lì sarò anch'io lì ogni tanto e andrò a trovarla. Sabato e domenica parteciperò anch'io allo stand Estrosa da un orario più o meno dalle due e mezza fino più o meno alle cinque e mezza, dove ci saranno dei live, dove praticamente io farò delle nail art, le spiegherò, ci saranno dei tutorial, ci saranno delle prove, insomma le solite cose carine che vengono fatte a queste fiere. Spero tanto di vedervi numerose, in quanto ovviamente essendoli allo stand potete passare quando volete, potete comunque salutarmi, scambiare quattro chiacchiere, se vi va comunque a fare una prova. Per quanto riguarda lo stand Estrosa che mi avete chiesto in tante, ci saranno alcune scontistiche sui corsi, non so esattamente se ci saranno scontistiche anche sui prodotti, però comunque se vi interessa potete passare comunque oltre a salutarmi anche a chiedere. Vi consiglio caldamente se venite in fiera di girare alcuni padiglioni, prima di tutto vi consiglio di girare il padiglione 34, che è sopra quello dell'arredamento, perché in quel padiglione lì ci sono un sacco di cose per i capelli, tipo l'extension, le collanine, i braccialetti, i cerchietti, insomma c'è tutto e di più in quello stand e lo visito sempre, perché ci sono un sacco di cose e ve lo consiglio caldamente. Per quanto riguarda gli stand delle unghie, voi dovete tener conto che ci sono tutte le grandi case che di solito fanno offerto sconti particolari e poi ci sono i polacchi, che i polacchi hanno questi stand giganteschi di solito, dove comunque trovate un sacco di cose a meno e ve lo consiglio caldamente. Un altro consiglio se vi interessa è di passare allo stand Lady Board House, dove hanno C&D, dove hanno anche i BD, dove i BD sapete che è il marchio che uso io per l'acrilico, dove so che comunque ci saranno un sacco di scontistiche anche lì. Ovviamente non so tutti i dettagli, ma mi è stato comunicato che ci saranno diverse offerte e promozioni e come farò io passerò anche ovviamente da Cristal Nese, perché hanno appena presentato a Budapest la collezione nuova, quindi al Cosmo ci saranno tutte le novità. Diciamo che queste sono le cose principali e importanti che io faccio, ovviamente voi potete fare quello che volete, vi ho solo dato alcuni suggerimenti. Un'altra cosa se passate di lì, vi consiglio anche, se vi interessa ovviamente, questi sono i miei suggerimenti, di passare allo stand di Nel Pro, che è la rivista che compro io di solito, perché di solito anche lì al Cosmo Prof ci sono delle scontistiche particolari e voi sapete che ultimamente la amo ancora di più, perché ci sono un sacco di consigli, un sacco di parte teorica, un sacco di parte tecnica, oltre comunque le solite nail art che vengono sempre fatte, quindi vi consiglio caldamente di passare anche da loro. Un altro consiglio che vi do, se avete voglia di passare allo stand Life, che è lo stand dove anche l'anno scorso avevo acquistato i colori neon, perché sono super pigmentati e super coprenti, e infatti mi trovo da dio, infatti anche passerò sicuramente a ricomprare il Fux e a comprare anche gli altri colori. Il nome di questi gel è One Stroke, che servono comunque anche per la micropittura, ovviamente col gel, ma io li sto utilizzando come monocolore classico. Questi sono i suggerimenti che mi vengono in mente, io comunque avendo libero anche venerdì girerò comunque anche gli altri stand, per quanto riguarda anche e soprattutto i capelli, perché sapete che vi piace, quindi vorrei andare a vedere se c'è il Marcoil, insomma i marchi classici, anche per gli sciampi, balsami, quindi avrò un po' da fare. Intanto che io parlo, so che nel video avete visto le unghiette, ho fatto le unghiette per il Cosmo, però ovviamente ho registrato il video, è una forma che non ho mai portato, mi piace tantissimo e non è perfetta, infatti sarà la forma madda, perché secondo me non esiste, però vabbè a parte questo piccolo dettaglio, vi registrerò con molta molta calma, perché ho il computer tra le altre cose pieno, quindi devo prima svuotarlo, scaricare, tu hai video di registrazione editarli, quindi ci metterò un pochettino, però ho voluto comunque farvele vedere in anteprima. Spero come ogni anno che voi passiate numerose, se passate e non mi salutate, mi vedete e non mi salutate anche in giro, vi picchio, mi raccomando, non fate questo scherzato anche se mi vedete venerdì, 5 minuti posso dedicarle veramente a tutti, e niente, a presto, un grosso bacio, ciao! Ciao!